bello a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale di un nostro nuovo video come al solito io sono gabry io birillo oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido vai birillo sponicelo della catwood il mega meros è un liquido al melone chimicoso ragazzi chimicoso buon sapore di melone ora andiamo a fare la nostra prova di svapo a tirare qualche conclusione vai gabry lo andrò a provare col ghani e druga gli organi e il google e mezzo modificato su tagliato la punta sempre sono questo liquido a nicotina zero si andiamolo vai gabry un po' come il chupa chupa se il melone lo fa è che è super chimicoso cioè un melone super chimicoso bello dulce è come il chupa chupa al melone un po' peggio cioè ti da l'impronta forte subito di melone si però si sente che è un po' chimico boh non è un melone naturale è molto è spinto molto spinto perché poi c'è scritto qua sotto handcrafted melga meros da california da california un bel liquidoso che voto ci dai gabry a questo liquido ci do 6 e mezzo il 6 e mezzo per chi vuole si cioè meno si sente però per me è troppo chimico non me lo so per aiutare tutto il giorno il mario ci dai suoi tiri basta lo metti nel mobilietto lì di bellezza un nuovo liquido della collezione allora la tabella dello swap è tutto se il video è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram vi aspettiamo un bacio ciao 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 ciao